. GF Vip, Cecilia Rodriguez umilia Monte e Sunnako, mi piace perché è super dotato Vim Zuiden. Cecilia Rodriguez ha fatto degli apprezzamenti bollenti su Ignazio Moser, mentre ha sminuito Francesco Monte. . Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Cancelletto Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5, che ha appena visto il nuovo bacio di Ivana Mrazova e Lucca Onestini. . Le ultime novità ci svelano che Cancelletto Cecilia Rodriguez ha fatto delle confessioni piccanti su Cancelletto Ignazio Moser, nel corso dellultima puntata delle Iene. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, intervista piccante alle Iene. . Le novità della seconda edizione del Grande Fratello Vip svelano che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a far parlare di sé, per un brutto scherzo creato dalle Iene. . La popolare trasmissione ha cercato la collaborazione dellex ciclista per fare uno scherzo di cattivo gusto alla sua affascinante fidanzata. . Come ricorderete, lArgentina aveva dimostrato di avere una vera fobia nei confronti dei fantasmi, tanto da aver picchiato Cristiano Malgioglio allinterno della casa del GFVIP. Ignazio Moser ha fatto credere alla modella argentina che la sua abitazione fosse abitata dallo spettro del primo proprietario, tanto che mentre so trovava in una cantina allimprovviso è mancata lenergia elettrica. . Dopodiché è stata presa di mira da alcune presenze demoniache, tanto che è morta dallo spavento. Fortunatamente poco dopo ha scoperto di essere stato vittima di uno scherzo delle Iene e del suo fidanzato. . Infine Cecilia Rodriguez e Naco hanno accettato di essere intervistati dai birichini delle Iene, e non sono mancati i colpi di scena. Cecilia, di Ignazio mi piace il suo. . Dalle notizie sui protagonisti dellultima edizione del GFVIP si evince che la figlia di Gustavo Rodriguez e Ignazio Moser hanno rilasciato delle dichiarazioni a dir poco imbarazzanti agli inviati in nero smoking. . Entrambi hanno dichiarato che la loro storia damore procede senza intoppi dopo la fine del grande fratello VIP. Inoltre Cecilia ha risposto in maniera a dir poco eccessiva, tanto da essere già ampiamente criticata sul web. . . Dalle ultime novità si apprende che Cecilia ha rivelato di essere totalmente appagata a letto, in quanto il figlio di Francesco Moser è superdotato. . Inoltre ha affermato che Ignazio è più di Francesco Monte sotto le lenzuola, tanto da averlo fatto su tutti i letti ed addirittura in un camerino di Mediaset. . . Infine la risposta che ha suscitato lindignazione del pubblico è stata quella fornita alla domanda, cosa ti piace più di Ignazio? Il suo PIS, mentre lui ha risposto candidamente, i suoi occhi. . Per altre notizie sul GFVIP, vi basterà cliccare il tasto Segui, sotto al video ed accanto al nome dellautore. .